Ciao amici e i fan della pagina dell'orto di Dio ed eccoci alla quarta puntata della rubrica cambia vita oggi parliamo di come fare la spesa senza andare al supermercato in realtà io ci vado al supermercato, poi dipende dal periodo dell'anno mangiare il pane, la pasta, le patate, i biscotti per fare colazione, quelli che mi piacciono queste cose me le compro sempre, però più o meno sono questi cibi che compro, basta il resto ci sono modi alternativi, voi immaginerete che sto parlando di avricoltura di coltivare i propri ortaggi, magari le proprie piante da frutto, legumi, cereali poi ci sono anche gli allevatori che allevano gli animali per la carne, per le uova, per il latte sicuramente questi sono tutti metodi interessanti di cui andremo a parlare che ci aiuteranno a diventare indipendenti anche nell'alimentazione ma una cosa ancora meno impattante, ancora più semplice dell'allevamento e dell'agricoltura è la raccolta dei cibi spontanei, come i funghi commestibili che vi farò vedere in un altro momento ma come anche le erbe commestibili io sono diventato un pochino esperto perché grazie a Facebook devo dire su Facebook c'è un bel gruppo che si chiama Erbe Spontanee Magnierecce penso che oramai c'ha 200.000 iscritti iscrivetevi, ogni erba che trovate che non sapete di che erba si tratta la pubblicate, la foto e qualche esperto vi dirà se si mangia, se non si mangia io ho scoperto che facilmente qui intorno a casa, intorno a casa mia posso trovare ben 50 erbe diverse tutto l'anno che sono commestibili o che sono aromatiche o che sono medicinali ma certo, luglio-agosto c'era poca roba c'era la portulaca e poca altra roba ma ci troviamo in settembre, sta ricominciando a fiorire tutto e eccoci qui nel campo della cicoria io oggi sono andato al supermercato e ho visto che c'era la cicoria e ho detto ma sono matti quelli che se la comprano perché guardate, qui ci sono quintali di cicoria qui per terra basta venirselo a raccogliere e guardate, tra l'altro ci abbiamo quattro differenti tipi di cicoria questo campo ci dà c'è la cicoria a coste rosse frastagliata la cicoria a coste bianche frastagliata la cicoria a coste rosse ma a foglie lisce, a foglie tonde e infine anche la cicoria a foglie lisce e coste bianche vedete, quattro tipi se avete gusti diversi, una un po' più amarognola, una un po' più dolce ma noi ci raccogliamo una diecina di liti cicoria così un po' ce la mangiamo, un po' la portiamo agli amici più su c'è un campo che è pieno di bieta e dietro c'è un campo pieno di cime di rape selvatiche io vi invito a informarmi, a cominciare a conoscerle se volete chiedetemi perché vi parlavo del fazzoletto di terra perché ieri ho detto per cambiare vita oltre a una piccola casa serve un piccolo fazzoletto di terra a stare in mezzo alla campagna per questo motivo qui, per raccogliere la verdura da soli beh io penso di aver detto tutto per oggi vi saluto, sennò il video diventa troppo lungo ciao ragazzi, dai che resisteremo a questa grossa crisi alla prossima, bella per tutti